buongiorno buongiorno amici ed amiche del canale dal vostro nick you e buon sabato a tutti mi raccomando prima di iniziare con quest'altro video iscrizione al canale like anche a questo video e condividete 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 detto questo detto questo ascoltavo la dichiarazione le uscite sul giornale di ferrero accettiamo di buon grado l'uscita dalla conference e l'ammenda di 20 milioni anche se non abbiamo fatto nulla quindi non abbiamo commesso alcun reato perché ricordiamolo sempre le plusvalenze non sono normate non si sono alterati i bilanci si è fatto fuori andrea agnelli perché era quello che voleva sempre l'ingegnere il canna e noi accettiamo di buon grado noi non accettiamo niente voi accettate di buon grado non noi 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 tifosi abbiamo semplicemente subito tutte le angherie possibili immaginabili per una serie di stronzate campate per aria una dietro l'altra una dietro l'altra per ricevere penalizzazioni inesistenti per ricevere multe più uscite dalle competizioni europee inesistenti semplicemente perché il signor ceferin non voleva che la juventus continuasse nella battaglia per la superlega e voleva farla pagare ad andrea agnelli siccome ancora ripeto perché in qualche video ho detto la boccola al naso non l'abbiamo quindi per prenderci per il culo un po ce ne passa io mi auguro soltanto e semplicemente una cosa che veramente il canna stia facendo tutta questa pulizia stia abbassando il monte in gaggi stia cercando di operare per la sostenibilità parola che spesso ha utilizzato giuntoli proprio perché ha in mente di cedere questa società perché altrimenti non si può spiegare una serie di stronzate simili che abbiamo subito dove alla fine si è fatto soltanto l'utile l'utile del signor john elkan e con annessi e connessi con annessi e connessi quest'anno ci si è dovuti sorbire anche che nell'anno del centenario non si fa la classica sfida di villa alperosa juve a juve b e chissà per quale motivo perché l'ingegnere non aveva la faccia con quale faccia l'ingegnere si presentava davanti alla squadra sulla tomba dei suoi avi per dare carica e fare un discorso accorato e di cuore juventino alla juventus è impossibile perché non ne ha a cuore perché non ne ha in corpo lo si vede nella juventus lo si vede in ferrari e allora se non ha sete se ne vada fuori sia lui a dimettersi a cedere questa società perché noi ci siamo stancati e che non si venga a dire che la colpa è ed esclusivamente solo di andrea agnelli perché oggi oggi quello che diceva andrea agnelli si sta verificando in todo in todo perché quando andrea agnelli diceva che il calcio non è più sostenibile che bisognava avere altri introiti dai quali attingere per riuscire a mantenere il gioco calcio non era una cazzata e si rispondeva che il calcio era del popolo oggi oggi con le braghe scese perché infantino e cefrino hanno le braghe scese perché gli hanno fatto fare anche il mondiale non più tardi di qualche mese fa gli sta bene che dalla rabbia vengano in europa a prendere a prelevare qualsiasi calciatore per prenderselo e dargli l'impossibile come cifra e l'inarrivabile per qualsiasi club europeo aveva ragione andrea agnelli allora però giustamente se sei uno giusto in un mondo di cento imbecilli purtroppo i cento imbecilli prenderanno sempre e avranno sempre il sopravvento è una questione di dato di fatto uno contro cento ma anche uno contro dieci non ce la può fare e sono anni non è solo da quando avete tolto Andrea Agnelli sono anni che la stampa le televisioni la qualunque le radio gli fate fare quel che cazzo vogliono da quando alla juve hanno voluto interrompere il dominio dei nove anni dopo il noventus dove già rompevano le palle gli altri club compreso aurelio de laurentis che parlava di playoff e play out perché il campionato era troppo monotono perché non poteva esistere che il campionato italiano potesse già finire a novembre dicembre perché gli altri giustamente a che cosa giocavano era troppo scontato era troppo una cosa morta e già da allora dava fastidio che la juventus vincesse e vincesse in continuazione figuriamoci dopo nove titoli consecutivi e dopo 19 trofei consecutivi e hanno fatto quel che hanno voluto fare una vittoria a testa per far vincere tutti per far vedere agli occhi del mondo una cosa inventata finta e fasulla la vittoria di squadre diverse ogni singolo anno Inter, Milan, Napoli adesso magari toccherà Roma o Lazio e disinnescare la juventus perché la juventus da Ronaldo in poi inclusa purtroppo la pandemia che ha colpito tutti è andata a calare non è andata a calare perché l'operazione CR7 era un'operazione sbagliata e perché se n'è andato solo Marotta sicuramente dovevamo sostituire Marotta con un DS all'altezza ma il problema non è stato lì il problema è che si è fatto di tutto di tutto per azzerare nuovamente la juventus e per riportarla a quella che era il post 2006 una volta tornati dalla serie B solo che questa volta l'ingegnere non ha avuto la faccia di mandarci in serie B di avere gli avvocati compiacenti ad accettare una punizione resistente così come è successo nel 2006 ha accettato queste punizioni in silenzio al 2023 senza cambiare nulla ma noi non accettiamo niente noi non accettiamo niente perché noi non abbiamo commesso nulla e continuano le altre a fare quello che vogliono continuano l'Inter la Roma a fare affari col Sassuolo con le società compiacenti a creare le plusvalenze ma lì va bene tutto va bene tutto perché nel sistema e del sistema l'importante è che non esca vincente la juventus mi raccomando amici del canale augurandovi un buon sabato iscrizione anche al canale like anche a questo video e condividete e condividete e condividete ciao e al prossimo un grande abbraccio dal vostro Rick You grazie a tutti